Rocco Parisi, allenatore degli Amici Montegiove, allora inizia un'altra avventura dopo l'anno scorso a Chivasso. Sì, Amici di Montegiove che è già cambiato il nome, non ufficialmente però, dato che vogliamo cambiare, si chiama Atletico Chivasso. Sì, effettivamente comincia una nuova avventura. Ogni anno dico, non ho più voglia di allenare, poi mi faccio comunque trascinare. Quest'anno c'è un progetto serio, una società seria che vogliono far bene. Sicuramente non partiamo per vincere il campionato perché abbiamo fatto una squadra nel giro di cinque giorni. Però è un'avventura, è una scommessa che però penso che si possa vincere. Inseriti nel giornale del Vercellese, quali sono le squadre che temete per la vostra classifica? Allora, dico la verità, non conosco nulla di questa categoria, al di là, ma non per presunzione, perché è un sacco di anni che la seconda categoria non la vedo. Diciamo che ho provato l'anno scorso con Chivasso, avevamo un girone Vercellese-Casalese e Astigiano e devo dire che effettivamente è difficile. Se la seconda è come il girone di prima dell'anno scorso, Vercellese-Casalese, è duro, ma penso che comunque la nostra possiamo dirla. Domenica, prima partita, andrete a Trina con il proprio alazolo. Cosa ti aspetti dai tuoi ragazzi? Ma è un punto interrogativo perché io non conosco loro, loro non conoscono me. Abbiamo fatto solo una piccola sgambata domenica pomeriggio, figurati, con una squadra di allievi, abbiamo un amichevole domani sera, l'unica, con una squadra di seconda categoria. È un po' partire al buio praticamente, non sappiamo, però logicamente hanno già capito quello che voglio io, intensità, voglia, aggressività, queste cose sì. Grazie a tutti.